Due modi diversi di vedere uno stesso esercizio E comunque ovviamente superambiamente la Zucca con il virtù di questo risultato più o meno discutibile ottenuto dalla russa alla prune e si va per la medaglia d'argento perché se non farà più che straordinaria questo cerchio che deve essere il 18 e 700 per vincere il mondiale Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La Anna Bessonova Vediamo Adesso vediamo se i judici avranno il coraggio di assegnare 18 e 7 Dovrebbero avercelo perché se la merita questa atleta straordinaria è la realizzazione di coraggio è riconoscere i suoi reali valori Questo è il fatto Non è coraggio Non è coraggio Sarebbe di coraggio Non è coraggio di cooperative Grazie a tutti.